Quanto tempo ancora Bitcoin sarà in questo limbo? Quanto tempo manca? Perché queste fasi di bassiste che riguardano i mercati delle criptovalute e negli ultimi periodi hanno avuto una lunghezza temporale simile un po' l'una dalle altre. Allora siamo in una fase ribassista, siamo in una fase riflessiva, c'è un pericolo reale su Bitcoin eccetera e soprattutto questo sblocco di questa fase quando potrebbe arrivare questo limbo, questo non si muove niente, questo non cambia niente, quando potrebbe dare la sua fiammata, quando potrebbe ritornare a dare la sua fiammata in la volatilità e quindi riscaldare gli animi sui mercati delle criptovalute. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, di nuovo lancio della moneta che anche questa volta ci ha più o meno beccato perché siamo andati in trading range però la moneta aveva detto ribasto nuovamente e insomma ci ha beccato. E questa volta ragazzi dice rialzo questa moneta, allora questa volta dice che andiamo su, vediamo, insomma settimana prossima dal weekend se avrà ragione, ancora una volta sarebbe la quinta su 5, vediamo questa serie storica e quando si interrompe dove è già diciamo un po' eccessiva. Allora ragazzi, i tempi tecnici delle fasi rilassate dei mercati hanno un timing ben definito. Allora oggi guardiamo queste cose, questo timing quanto dura così abbiamo un altro approfondimento su questo argomento, poi volevo mostrarvi questo altro grafico che non guardiamo da un po' di tempo, cioè il grafico del rapporto tra Bitcoin e Nasdaq 100. Vi ricordate nei tempi in memory ormai, chi di voi com'è da tanti anni comunque lo sa, a novembre del 2022, questo è il grafico che aveva effettivamente indicato la fine del ciclo annuale di Bitcoin e l'inizio di questa nuova fase di bull run. lo aveva indicato con precisione più di tutti gli altri grafici, era stato molto più preciso e abbastanza normale che sia così perché è un grafico di rapporto di forza. Quindi molto interessante, lo vedremo perché anche questo punta il dito verso una data ragazzi ed è sempre stessa alla fine. Quindi mi avete fatto una domanda su questo argomento e la rispondo alla fine di questo video tra pochi minuti perché è una domanda interessante. L'attuale situazione può essere che si ripete effettivamente così se tutti si vanno ad aspettare quella cosa e questo è il vero problema, la riflessività dei mercati e ci sta, dobbiamo andarlo a valutare. Iniziamo con la domanda principale, quanto tempo ancora può durare questo tipo di struttura su Bitcoin in base alla fase storica precedente? Allora, intanto, quale zona di congestioni andremo a vedere? Quella relativa ai rialzi del 2021, dei ribassi del bear market del 2022 o no? No, assolutamente no, nessuna delle due, quella che andremo a vedere e quelle sono tutte le fasi dopo il 22 novembre del 2022, il 21 novembre del 2022 ragazzi. Questa zona qui, dopo questa zona, perché tutte le altre fasi non hanno alcun rilievo in questo momento in quanto rappresentano un passato ormai lontano per Bitcoin e siccome noi stiamo ragionando sull'attuale ciclo di Bitcoin iniziato il 21 novembre del 2022, non ha nessun senso andare a guardare i cicli precedenti. Anche in questo caso, capite bene il concetto che c'è dietro, la decadenza, in questo caso, degli atteggiamenti e delle serie legate ai dati che noi otteniamo nei grafici. Non sempre ha senso considerare il passato, in questo contesto non ha senso considerare il passato, perché noi dobbiamo andare a guardare l'atteggiamento di Bitcoin nell'immediato passato, che è un discorso diverso e soprattutto nell'attuale fase ciclica che ha tutti costrutti di fondamentale domanda, offerta, riduzione dell'albing, incremento degli ETF, già strutturati all'interno, cioè tutto quello che noi abbiamo visto già sta dentro questi dati e quindi l'immediato passato è l'unica cosa che ci interessa. Allora, queste fasi, tutte queste fasi, ne abbiamo avute un po' in questo ciclo nuovo che è iniziato il 21 di novembre 2022. Abbiamo avuto una prima fase, qui vi ricordate, qui sembrava che si tornasse a scendere, invece super farloccone. Io qui ho ricevuto, tra le altre cose ragazzi, decine di critiche per aver indicato che il mercato aveva invertito il trend e che bisognava essere long in quella fase e non short. Ho ricevuto decine di critiche ragazzi, non perché il concetto qual è, non perché io non possa sbagliare, è capitato tante volte, non è quello il discorso, ma era sbagliato proprio il modo di ragionare di chi in questo punto stava giocandosi la partita della continuazione del ribasso, a meno che non siete trader, in quel caso è sempre giusto perché il trader segue delle strategie, poi chiude e inverte, ma era ovvio che in questa parte qui il tentativo che bisognava fare era quello di tradare una fase che poteva iniziare, perché la fase di Bassista era già avvenuta, quindi qui c'era poco spazio anche volendo, ecco tutto un discorso anche di convenienza. E poi tempi tecnici, indicatori grafici, analisi ciclica, tutto indicava la ripresa di questo movimento, l'abbiamo detto a gran voce e veramente quella è stata forse la mia annata migliore nel settore delle cripto proprio il 2023, senza dubbio. Allora questa fase qui, prima zona ribassista, questa fase qui, seconda zona ribassista, questa fase qui, terza zona ribassista, questa fase qui, quarta zona ribassista e quella attuale a quale di queste appresenta. Quindi 1, 2, 3, 4, e quella attuale è la quinta zona laterale ribassista di questo maxiciclo iniziato il 21 novembre 2022. Andiamo a vedere se ci sono delle similitudini, quindi a questo punto su tutti questi cicli. Intanto, qui c'è un ragionamento da fare, andiamo a considerare la fase ribassista come dal massimo in questa zona, oppure una fase più generale, cioè facciamo massimo-minimo, oppure andiamo a prendere da quando il mercato ha iniziato a ridurre le forze, cioè da quando ha iniziato a indebolirsi in pratica. A volte potrebbe essere legato esattamente al massimo raggiunto, altre volte no. E infatti io quello che farò non è considerare il massimo, bensì le aree di indebolimento che secondo me sono più corrette. Cioè, per esempio, in questa zona, già da quest'area qui c'è stato un indebolimento con un primo trend importante al ribasso. Non importantissimo, ve lo faccio vedere più grande, ma comunque c'era ed eravamo scesi, diciamo, di un 11-12%. Questo, diciamo, è una fase di indebolimento, un hype che rompe di pochissimo i massimi, veramente poco. In shadow siamo intorno al 4%, guardate, e 3% neanche ci arriva al 4%, e poi si riscende. Se guardiamo le close, addirittura sotto il 4%. Quindi questa fase, dal mio punto di vista, inizia da questa zona qui. Cioè, da questa zona. Non mi interessa, tra l'altro, essere preciso al giorno perché non cambierebbe assolutamente niente. Quindi, per me è una fase che dura una quarantina di giorni, 30-40 giorni. Da qui in poi. Qui c'è una fase di congestione, ma non avviene nessuna fase ribassista. E questo è importante andarlo a considerare. Nella seconda fase, infatti, c'è una strutturazione di oscillazione, ma siamo sempre all'interno di un range. Tant'è vero che, se guardiamo le close, è ancora più evidente che qui avviene un trend ribassista. Ribassista, qui non avviene nessun trend, anzi, non viene rotto nemmeno il minimo precedente in close. Qui invece fu rotto in questa zona e poi più giù. Perciò questa zona non è da considerare. Bensì è da considerare la successiva, cioè quella che inizia proprio in questa fase e che se ne va in questa zona. Circa 60 giorni in media. Stessa cosa, identica qui. Più o meno da qui a qui un'altra sessantina di giorni, 62-70 giorni. Quindi queste zone sono praticamente simili ed è la terza fase. Andiamo a vedere questa. Questa è la più complessa. Perché? In realtà questa è una fase che c'è dentro, che include l'approvazione degli ETF. Quindi un po' di volatilità è la più complessa da valutare. E in effetti perché? Perché nei rialzi dell'8 del lunedì, 8 di gennaio, c'era dentro l'approvazione dell'ETF. Quando poi venne approvato l'11, crollò immediatamente. Quindi queste due candele, una e due, sono in pratica oscillazioni. In realtà, secondo me, questa fase va considerata da questa zona qui. Anche qui è un po' corta, ma non da qui. Io la considererei più o meno da una zona di questo tipo. Cioè sostanzialmente simile alla prima. Quindi qui abbiamo la prima, che vedete, è in questo modo. E questa è molto simile come zona di congestione. Perché se noi eliminiamo la volatilità dovuta alla questione dell'ETF, quindi questo trancio e poi il ribasso, in pratica il mercato resta qui in mezzo a questa zona. E poi fa il declino. Quindi molto simile a questa zona qui. Anche qui ci fu il rialzo e poi declino. Quindi l'atteggiamento è similare. Mentre, ragazzi, queste fasi sono differenti. Quindi qui abbiamo una prima fase corta, 30 giorni circa. Poi 60-70, 60-70, 30 giorni circa. 30-40. Allora, qui dove siamo? Qui è più facile perché questa fase attuale, per fortuna, è più facile in quanto l'inversione avviene proprio dal massimo. Non capita spesso. Qui siamo nell'ordine dei 34. Quindi come la prima e la quarta fase. E se noi dovessimo scegliere tra questi due atteggiamenti, dovremmo dire, bene, o siamo arrivati e quindi la fase di bassista è simile alla precedente, 30-40 giorni. Perciò questa fase di ripresa che è avvenuta poi successivamente andrà a recuperarsi nella prossima settimana con un'inversione. Basta un rialzo al di sopra di questo livello. Adesso vi faccio vedere anche questa inversione e il mercato accelererà al rialzo. Ecco, questa è la figura del pattern. Basta un'inversione domani, sabato e domenica e poi lunedì, soprattutto lunedì, al di sopra dei 67.200 e inverte questa zona per tentare i famosi nuovi massimi. Nuovi massimi che ha pochissimo tempo, come mi dicevo io, per farli. Già questa settimana avrebbe dovuto farli e non sembra proiettato. La prossima è l'ultima, cioè se non riesce entro pochi giorni probabilmente continuerà la fase di bassista. Perché o laterale di bassista? Perché ragazzi? Perché in effetti, in effetti, al contrario di questa zona, se allunghiamo poi questo periodo, ce ne andiamo oltre 40-50 e quindi andiamo più probabilmente ad assistere ad una fase di congestione simile a queste due zone qui. E dove ci porterebbe una fase di congestione in zona 60-70 periodi? Verso la fine del mese di maggio. In pratica una roba del genere, 22 di maggio. Ora, la struttura sarebbe ancora laterale ribassista fino alla fine del mese di maggio. Un po' prima, devo essere sincero, 22 maggio. Dopodiché un eventuale recupero fase di ripresa. Allora, morale della favola. Siamo a metà di questa zona e questa metà deve dare risposta entro pochissimo tempo. Adesso vi faccio vedere anche l'altro grafico perché ci indica invece una data. E quel grafico lì che ci indica una data non coincide perfettamente con il 22 di maggio. C'è un lasso temporale che però non mi stupirebbe, sono sincero, in alcune situazioni perché anche l'inizio di un eventuale nuovo trend non configura un'inversione AB. Potrebbe essere semplicemente una congestioncina. Così e poi riprende. Quindi una struttura da doppio minimo. Non mi dispiacerebbe. Quindi l'altro grafico che adesso vi mostro è veramente importantissimo per avere la fascia. Cioè l'aria temporale. Stiamo parlando di tempo da due o tre video, ragazzi. Cosa importantissima, secondo me, in questa fase. Allora, in pratica siamo a metà di questa zona. Metà di questa zona che significa che o entro uno o due giorni, lunedì prossimo, una roba del genere, rompiamo i 67, allora questa fase sarà terminata qui e probabilmente Bitcoin tenterà di fare nuovi massimi e lì poi attenzione perché ci sono tanti pro e tanti contro di un atteggiamento del genere. Dal mio punto di vista io preferirei la congestione continuasse un po'. Sarebbe meglio per Bitcoin perché indicherebbe l'inizio di un nuovo ciclo annuale inverso già avvenuto che sta spingendo, non è forte, per cui per il procedo rialzista di Bitcoin è meglio una fase del genere piuttosto che il tentativo di fare nuovi massimi a breve, soprattutto se ci riesce perché se non ci riesce, ok, non cambia niente, ma se riesce a fare nuovi massimi a breve non è assolutamente come sembra, non è positivo. Semplicemente perché indicherebbe che poi la fase ribassista comincia dopo, ragazzi, questo è il discorso, a meno di situazioni anomale, comunque sarebbe molto pericoloso, mentre invece una fase di continuazione laterale così rilassata di respiro sarebbe molto, molto più conveniente per il procedo futuro. Ovviamente, come sempre, il mercato farà un po' quello che gli pare, però in questo frangente sembra un po' tranquillo, quindi magari potrebbe approcciarsi effettivamente con la soluzione più consola, più normale. A volte si fa, ragazzi, non è che sempre i mercati scioccano gli investitori, a volte fanno semplicemente quello che si aspetta, no, no, perché il tempo è, insomma, tante volte succede questa cosa, a volte invece anticipano, vedremo, comunque, salvatevi questo livello, 67.000, è questa data. Andiamo a vedere invece l'altro grafico, quello che è il rapporto di forza relativa tra Bitcoin e Nasdaq 100, un grafico che ci ha portato veramente tanta fortuna in questa zona quando siamo andati a definire le fasi, qui non sposto i grafici, ragazzi, perché sono impostati sul time frame settimanale, quindi non mi fate spostare i livelli perché a me non piace. In un concetto del genere, però, in pratica, Bitcoin ha iniziato sul Nasdaq 100 due strutture cicliche da novembre che sono molto importanti, ve li faccio vedere sul settimanale, così non ci confondiamo, circa 294 giorni, circa 300 giorni la prima, sono settimane, quindi la forchetta sono sette giorni in sette giorni, eh ragazzi, quindi mi raccomando, non è preciso al giorno ma al settimo giorno, è preciso a unità di chiusura di sette giorni. Dopodiché io qui ho impostato una zona di fase di chiusura di questo ulteriore ciclo che è stato potentissimo nei confronti di Nasdaq, guardate che rialzo nei confronti di Nasdaq 100, nonostante i mercati americani siano andati anche bene in quel frangente, Bitcoin ha fatto più 140% rispetto a Nasdaq 100 ragazzi, ok? Eh dopodiché in questa fase stiamo andando alla tentativo di chiudere questa fase ciclica e attenzione, questa fase ciclica sta chiudendo in maniera blanda e lineare, questo indica un paio di cosette. Primo, primo, alla chiusura di questa fase ciclica la forza di Bitcoin rispetto a Nasdaq 100 potrebbe essere notevolmente più forte e soprattutto potrebbe andare a fare i famosi nuovi massimi di questo grafico che ancora non ha fatto perché intanto guardate come si sta restringendo anche la forchetta delle ultime burran di questa forza relativa rispetto a Nasdaq 100, segno che Bitcoin è comunque più forte ma non così tanto più forte come era in precedenza rispetto ai mercati classici, segno che si sta classicizzando diciamo così un pochettino vabbè comunque il superamento di questa zona non guardate i prezzi perché non c'entrano niente sono relazioni quindi non sono indicativi ma indicativo solo di punto un superamento potrebbe mandarlo in price discovery e fare una roba del genere che poi è in effetti la vera burran quello che ci aspettiamo come vera burran eccetera allora andiamo a vedere la data la data 280 giorni ci indica di nuovo 3 di giugno cioè la settimana di giugno se io poi metto a livello daily intorno alla 3 barra se allunghiamo un pochino facciamo 2,90 come la precedente 13 di giugno quindi la prima decade di giugno in pratica quindi in un grafico abbiamo l'indicazione che se questa zona ribassista laterale ribassista di Bitcoin prosegue che sarebbe un bene per Bitcoin e quindi non il tentativo di fare i nuovi massimi bensì di proseguire questa fase e prosegue per tutto l'inizio del mese di maggio e fino a quel punto probabilmente proseguirà fino al 20-25 maggio dall'in poi però abbiamo una discrepanza qui abbiamo 20-25 maggio da un lato dall'altro lato abbiamo la possibilità di arrivare fino al 10 giugno quindi una forchetta temporale ancora una volta fine maggio primi di giugno ancora una volta questa indicazione tecnica molto importante molto delicata molto rilevante ragazzi ok quindi occhi puntati la prossima settimana su questi livelli vi ho detto il livello principale di Bitcoin per la prossima settimana da monitorare ve lo rimostro in questo grafico nuovamente eccolo qui ed è 67.200 questi prezzi generali insomma più o meno in questa area 67.200 perché sapete che exchange cambiano i prezzi se non lo fa e continua questa fase di bassità attenzione ragazzi perché il ribasto al di sotto potrebbe spingersi verso anche target intorno ai 56.000 dollari con grande tranquillità non sarebbe ancora una volta un male lo so è brutto dire così però l'ultimo ribasto è stato il 22% qui siamo ancora più alti del 22% il 22% sarebbe intorno ai 58 allunghiamo un pochetto perché magari c'è una chiusura più importante insomma ma di un paio di punti per arrivare al 56 quindi area 58 56 da tenere sotto stretta osservazione allora abbiamo cosa ragazzi abbiamo tutto quello che ci serve per i prossimi giorni perché abbiamo un'area di prezzo un'area di tempo e l'attesa della sapere se questo scenario può essere confermato dal mancato superamento di questo livello di prezzo la prossima settimana se non arriva sopra di qui e probabilmente continuerà questa fase sarà una fase di attesa se dovesse arrivarci in concomitanza sia a livello temporale sia a livello tecnico quindi dovremmo avere sia il livello del tempo tra fine maggio e primi di giugno sia a livello di prezzo intorno ai 58 circa 56 se fanno una roba del genere sarebbe una maxi combo e perché no magari si valuta qualcosa il mercato magari non farà precisamente così perché lo stiamo dicendo e quando lo diciamo magari le cose cambiano e questo è vero c'è un autoadattamento anche se noi non è che siamo tutto il mondo insomma non è che siamo tantissimi però un autoadattamento c'è assolutamente quindi probabilmente non avverrà in questo modo preciso però è una informazione molto molto chiotta e soprattutto da poter utilizzare cosa ne pensate in questa fase attendiamo le prossime esettivare per poter fare questa cosa vediamo se succede di nuovo intanto il livello 67.200 l'aria circa 67.200 occhi puntati oggi domani oggi no domani dopo domani è lunedì prossimo vediamo che cosa succede perché se lo fa ahimè eh lo so ritenta ai massi e dico ahimè la moneta ha detto che ce la fa e quindi lo so però se lo fa potrebbe essere peggio di quello che si pensa ne parleremo poi nei prossimi video ciao a tutti buon weekend ciao a tutti ciao a tutti